Le opposizioni consigliari del comune di Verbicaro, la Batemar, col cuore per Verbicaro e il movimento Credici Verbicaro uniscono le loro forze contro l'aggiunta del sindaco Felice Spingola. Sono queste le tre anime del sodalizio l'alba, un nuovo soggetto politico che nasce in un momento di crisi sociale, come reazione alle emergenze del territorio e alle attività dell'esecutivo, come ha spiegato il consigliere comunale all'opposizione Francesco Silvestri. Il comune di Verbicaro, il sindaco deve assolutamente evitare di far pagare l'Imo, soprattutto per la prima casa e di organizzare il servizio dei tributi a livello locale, dando la possibilità anche ai giovani di Verbicaro, che ci sono delle capacità, delle intelligenze, questo servizio, quindi dove non ci sono più pignoramenti, dove si crea una situazione diversa, più umana, come diciamo. E poi salvo a guardare il bene comune. Il bene comune su questo è un discorso che dobbiamo approfondire, è importante, perché salvare il bene comune significa salvare un patrimonio, un patrimonio che appartiene a tutta la collettività. Il consigliere, nel farsi portavoce degli altri esponenti del gruppo, ha sviscerato i lati negativi di chi oggi occupa gli uffici comunali con l'incarico di amministrare la cittadina, in primis la scarsa inclinazione del sindaco ad instaurare rapporti democratici con la minoranza. Non accettiamo il metodo, il modo, l'ho sempre detto, arrogante, quasi tirannico rispetto al fatto che non c'è democrazia, non esiste uno dei pochi comuni dove non esiste una commissione consigliare e quindi questo significa che non ci può essere partecipazione, non ci può essere dialogo, non ci può essere confronto. E il diretto interessato, ovvero il primo cittadino verbicarese, ha commentato così la nascita della nuova realtà. Io ufficialmente non so nulla di questa cosa, il nome che lei mi dice glielo sconsiglierei perché è un movimento di estrema destra in altri paesi, ci pensassero bene.